Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovissimo video, io sono Dama Colleziona e benvenuti sul mio canale. Ben ritrovati ragazzi, come vi avevo promesso nell'ultimo video acquisti Blu-ray barra 4k del mese di marzo, sono stato alla Star Wars Celebration. Io sono un super mega fan di Star Wars ma non avevo mai partecipato ad una delle famose convention incentrate su questo franchise mondiale galattico. Finalmente quest'anno del 2023 si è tenuta a Londra, quindi una meta relativamente vicina per noi italiani, per noi europei, quindi ho colto la palla al balzo e con un anno d'anticipo ho prenotato i biglietti, hotel e tutto quanto per arrivare al culmine di quest'anno con le vacanze pasquali e mi sono deciso finalmente di seguire questa manifestazione. Io l'ho seguita solamente 3 giorni su 4, inizialmente volevo fare 4 giorni su 4 ma visto che il volo di ritorno mi tornava più comodo farlo il 10 di aprile, cioè a Pasquetta, cioè ieri. Adesso non so esattamente questo video quando lo pubblicherò, però comunque oggi è l'11 di aprile. Io sono tornato ieri sera a Pasquetta da Londra e quindi la giornata di lunedì, l'ultima giornata di Star Wars Celebration non l'ho seguita, sono andato in giro a Londra a fare dei vari acquisti che vi mostrerò in un altro video acquisti. Comunque sono stato 3 giorni su 4 ed è stato un evento fantastico. Ogni ticket costava, l'ho pagato tipo sulle 40 sterline cada giorno, volevo inizialmente prendere il pass 4 giorni, quello completo, che costava molto di meno ma sono andati esauriti subito quindi ho dovuto comprare i singoli ticket. Cada Badge ha un'illustrazione creata da un artista, Alice Zhang, qualcosa del genere, un artista illustratrice che ha realizzato una sorta di poster collage dove c'era una sorta di linea grafica unica e poi c'erano vari personaggi dell'universo Star Wars messi insieme in questo collage che poi ogni frame, ogni casellina con il personaggio singolo ha permesso la realizzazione dei badge. Questi sono i miei dei 3 giorni, quindi a un solo Leia e Cassian Andor ogni tipologia di badge aveva il suo personaggio principale. badge che sono fisicamente i ticket d'ingresso che andavano attivati tramite l'app Star Wars Celebration 2023 creata appositamente per la mia manifestazione. App molto utile perché è composta da programma, orari, news, possibilità di comprare alcune cose dallo store. Insomma una bellissima app che è stata molto utile nel periodo della Star Wars Celebration, comoda. Andavano attivati i badge ma nessuno ai controlli ha mai scannerizzato il QR code, mai verificato che i badge fossero attivi o meno. Quindi presumo che l'abbiano fatto per avere una sorta di stima di numeri totali. I ticket badge sono stati comprati a luglio dell'anno scorso e due settimane prima dell'inizio della manifestazione, quindi verso fine marzo, sono stati spediti a casa. Il problema è che io sono partito il 6 di aprile e i badge ancora non erano arrivati via posta. Quindi io sono partito senza avere i ticket in mano, però fortunatamente non sono stato l'unico. Mi sono recato all'ex head di Londra, sede della manifestazione, e praticamente il 6 pomeriggio sono andato a ritirarli fisicamente sul posto. Mi ha lasciato un po' perplesso in quanto sapevano che ci sarebbero stati dei tempi tecnici per quanto riguarda la spedizione a ogni paese ai suoi tempi. Poi sono state effettuate le spedizioni dall'Inghilterra e si sa che extra UK le spedizioni sono un pochino lente, quindi sotto questo punto di vista potevano migliorare. Comunque, il 6 ho ritirato i badge, pomeriggio sono stato lì in coda a 20 minuti, è stata più la fatica di andare fisicamente nel luogo il giorno prima, andarle a ritirare. Quindi diciamo che tra metropolitana, andate a ritorno, l'attesa e tutto, un'ora e mezza, fra virgolette, buttate, un'ora e mezza che potevo dedicare a visitare altri negozi a Londra. A parte questa inconvenienza, poi la manifestazione davvero, ragazzi, è stata fantastica. Mi sono divertito tantissimo, è stata letteralmente stupenda. Bene ragazzi, primo giorno di Star Wars Celebration. Come potete vedere io sono già vestito a tema Star Wars, ho già il pass per oggi, venerdì 7 aprile 2023. Fra poco lascio l'hotel e mi incammino per andare a Excel alla Star Wars Celebration primo giorno. Il primo giorno mi sono incentrato alla visione del panel della Lucasfilm, dove hanno presentato i progetti futuri e hanno fatto vedere in anteprima i primi 6 minuti di Indiana Jones e il quadrante del destino. Infatti la Celebration è incentrata a Star Wars, ma in generale a quel panel lì hanno presentato tutti i progetti in corso e futuri della Lucasfilm. Quindi Indiana Jones è un prodotto Lucasfilm. Poi nel pomeriggio mi sono dedicato al panel di Andor, mi sono messo in coda per entrare al palco Celebration Stage. E quindi diciamo che la giornata è andata così, perché tra calchi di durata dei panel e così via, quindi il pomeriggio è andato. E poi il venerdì, pomeriggio, sono entrato nello store ufficiale e ho comprato questa bellissima felpa. Adesso non so quanto si vedrà, ma ho comprato questa bellissima felpa con la grafica della Star Wars Celebration Europe 2020-23 di Londra. Infatti troviamo la morte nera e qua ci sono degli elementi che richiamano Londra, Big Ben, London Eye e Westminster e il Parlamento. Poi il giorno successivo, ovvero sabato, non sono riuscito a seguire il panel di Ashoka perché ho voluto focalizzarmi sul palco Celebration Live Stage. Perché non avendo avuto la possibilità di fare autografi, perché costavano letteralmente tanto, costava tanto farsi firmare o farsi una foto con i personaggi principali, con gli attori principali, non avevo quelle possibilità economiche. Per cui mi sono concentrato sul Celebration Stage Live, che è un palco, come vi dicevo, a parte, bello grande, che permette ai fan in piedi di vedere proprio faccia a faccia i propri beniamini. Io ho incontrato parecchi personaggi. Adesso vi faccio vedere una carrellata veloce. Io ho incontrato parecchi personaggi. Non vengono, non vengono, non vengono, non vengono. Non vengono, non vengono, non vengono. Non vengono, non vengono. Non vengono, 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 non vengono, non vengono, non vengono. Non vengono, non vengono, non vengono, non vengono. Non vengono, non vengono, non vengono, non vengono, non vengono, non vengono. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.